Federica Brignone regala il decimo successo stagionale per l'Italia nella Coppa del Mondo di Scialpino per quanto riguarda il settore femminile. È letteralmente una valanga azzurra quella che stiamo vivendo in questa stagione con 10 vittorie su 27 gare disputate. Sostanzialmente quasi o più di un terzo delle gare è stato vinto da un'italiana. E soprattutto in Super G stiamo letteralmente dominando perché su 7 gare disputate sono arrivate 6 vittorie. Solamente in un'occasione Lara Gutberami, dominatrice della specialità nella scorsa stagione, è riuscita a battere le azzurre con comunque Sofia Golgia in seconda posizione. È arrivata nello scorso weekend la prima vittoria in Super G per Elena Curtoni. Sono arrivate a inizio stagioni due vittorie per Sofia Golgia e quest'oggi Federica Brignone conquista il suo terzo Super G stagionale. Andando a prendere veramente il largo nella classifica di specialità. Una gara che sembrava dominata fino a un certo punto ma poi è arrivata Cornelia Hütter. Cornelia Hütter pericolosissima se l'anno alla fine e pensate chiude ex equo con Federica Brignone. Per cui non abbiamo solo una vittoria italiana ma anche una vittoria austriaca per un'Austria letteralmente fantastica quest'oggi. Perché dietro a Brignone e Hütter troviamo ben tre austriache con Tipler, Puckner e Fest. Quindi sostanzialmente hanno fatto tripletta a cui si va ad aggiungere chiaramente Federica Brignone. Ma comunque hanno preso prima, seconda e terza posizione. Una tappa che ha visto comunque tante assenze bisogna dirlo con Michaela Schifrin, Petra Vlova, Lara Goodberami. Che hanno scelto di non prendere parte alla... anche Michel Gisin hanno scelto di non prendere parte alla trasferta tedesca. Per poter preparare al meglio i giochi di Pechino. Mentre mancavano anche chiaramente Sofia Goggia e Brissy Johnson a causa dei loro infortuni. Comunque la gara di oggi è stata vinta appunto da Brignone. Mentre ieri è arrivata la vittoria di Corinne Hütter che anche lei ha dominato in discesa libera. Mentre quest'oggi partiva ancora come grande favorita ma diciamo a deluso perché ha chiuso solamente in ottava posizione. Per quanto riguarda appunto la... abbiamo già detto le prime cinque posizioni con Brignone, Hütter, Tipler, Puckner e Fest. Per quanto riguarda Brignone è stata fortissima soprattutto a lancio. È stata molto brava, ha perso meno di quanto si potesse aspettare e poi nei primi curvoni è stata semplicemente fantastica. Per quanto riguarda invece Hütter è partita più piano rispetto a Federica Brignone. Anche nei primi curvoni non è stata fantastica come l'Azzurra ma poi nel finale è andata a recuperare. Miglior settore sia nel penultimo che nell'ultimo settore è andata appunto a recuperare circa due decimi rispetto a Federica Brignone portandosi allo stesso tempo. Terza posizione molto più staccata per Tipler a 82 centesimi. Ha solamente un centesimo di vantaggio sulla connazionale Puckner che chiude a 83 centesimi. 93 centesimi di distacco per Nadine Fest, 98 centesimi di distacco per un'ottima Romain Miradoli. Johanna Helen chiude a un secondo 0-3. Ricorderete ieri rischiò addirittura di andare a podio ma ha fatto veramente un errore clamoroso che lei ha costato diverse posizioni. Poi Corinne Suter, la vincitrice alla gara di ieri, un po' deludente quest'oggi. Un'ottava posizione per Elena Curtoni che non è parsa al 100% quest'oggi. Formalmente una pista che non le sediceva tanto alle caratteristiche anche perché il lancio veniva su un piano. Sappiamo che Elena Curtoni sui piani non è proprio una delle migliori in assoluto però ha perso tanto anche nei curvoni. Diciamo che questa trasferta di Garmisch-Partenkirche non è stata la migliore della carriera per Elena Curtoni però chiaramente viene dalla vittoria in Super G a Cortina. Vedremo un po' cosa riuscirà a fare alle Olimpiadi dove sarà sicuramente tra le grandi protagoniste. Decima posizione per la giovane austriaca Ariane Redler che sta trovando sempre di più una grande costanza di rendimento in queste ultime gare della stagione di Coppa del Mondo 2021-2022. Ariane Redler che è uno dei grandi talenti dello scudone austriaco, del Wunder Team austriaco che ha veramente tantissimi atleti ad altissimo livello ma chiaramente anche noi non siamo da meno perché tra Brignone, Curtoni, Sogoggia, Bassino, le seconde linee comunque con le sorelle del lago insomma veramente una squadra azzurra fortissima. 9 atleti parteciperanno a Tokyo, oltre a queste che ho appena citato partiranno anche Marsaglia e per quanto riguarda lo slalom e poi anche la prova squadra Anita Gulli e Lara Della Mea, la giovanissima Lara Della Mea. Vedremo un po' cosa riusciremo a fare in queste Olimpiadi, sono veramente fiduciosi e soprattutto sono veramente in hype per questo appuntamento a 5 cerchi di Pechino 2022. Comunque ragazzi direi che per questo è di tutto, mi tocco a commento e piace e iscrivervi su, ci sono la nostra pagina in strada e ci vediamo a un prossimo video. video